Lunghi riccioli biondi occhioni celesti, lei è la bambola di casa Totti. Chanel, figlia di Ilari Blass del capitano della Roma Francesco Totti, cresce in fretta e ha già 8 anni. Mentre ogni tanto si parla della possibile terza gravidanza di Ilari, c'è una novità che riguarda proprio l'ultimo genita dei Totti. La società sportiva Roma, infatti, sta aprendo le iscrizioni per una nuova scuola calcio femminile under 12 e si mormora che tra i primi acquisti del nuovo ramo giallorosso ci sia proprio Chanel, che seguirebbe così le orme non solo del celebre papà, ma anche del fratellino Christian, già capitano della squadra dei Pulcini e autore di una rete nel derby Roma-Lazio che ha inorgoglito, ovviamente, papà Francesco. Se la bella Chanel vestirà già così precocemente la maglia della Roma, quella che per adesso è una bella storia risca di trasformarsi in un'autentica leggenda e chissà cosa ne pensa mamma Ilari, già circondata da calciatori uomini. Avrebbe preferito forse che la figlioletta seguisse le sue orme nel mondo dello spettacolo? Certamente anche in questo campo, visto che ha ereditato la bellezza della mamma, partirebbe con un buon vantaggio.